Musica Bentornati e buona giornata da Meteo One Andiamo subito a vedere il tempo per la giornata di sabato 3 settembre Come possiamo vedere dall'immagine satellitare, il fronte temporalesco annunciato nei giorni scorsi ha raggiunto l'Italia scavando una blanda depressione nel Mediterraneo centrale L'anticiclone nel frattempo sta riconquistando tutta l'Europa occidentale con tempo soleggiato e mite mentre sull'Italia ci saranno ancora possibilità di temporali pomeridiani lungo tutta la dorsalia peninica Nei prossimi giorni questa lacuna barica portatrice di stabilità andrà colmandosi riportando il bel tempo su tutta la penisola Ma ora andiamo a vedere il tempo sulle nostre due regioni Il tempo risulterà soleggiato su tutte e due le nostre regioni Puglia e Basilicata qualche nube in più dal pomeriggio sull'Appennino e Lucano Dalla grafica vediamo le temperature che risulteranno stazionari sia nelle minime che nelle massime venti deboli dai quadranti settentrionale con rinforzi solamente sul Salento mare da poco mosso a calmo Ma ecco che la regia ci ricorda la nostra foto del giorno Ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli che ci manda il tramonto di fuoco dalle spiagge di San Fuoca nel Salento Se volete anche voi inviarci la foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine facebook di Meteo One e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione La foto migliore verrà mandata in onda nelle puntate di domani Grazie per l'attenzione e buona giornata